Benvenuti amici, io sono Salopimpos, oggi torniamo su FNAF Security Breach L'ultima volta abbiamo finito il gioco, nel senso che a questa domanda ho risposto vai via Vi ho provato un po' tutto effettivamente, comunque il finale, quello peggiore, vi appare cliccando su vai via Quindi si vedrà Gregory che esce da questo postaccio e incontrava anni e non si sa quello che succede Comunque un'altra vittima delle sparizioni Io oggi farei resta, visto che in molti mi avete detto che volete vedere questo finale Cliccando su resta praticamente dobbiamo andare al Gator Golf, al Golf Gator, quello che è Comunque ci dà il pass festa quindi dovremmo recarci lì Il problema è che da questo punto in poi i salvataggi sono disattivati Problema, problema number one Però mi avete detto che c'è un piccolo bug in questo gioco Che da questo momentico in poi se raggiungo di nuovo il Roxy Raceway e vado a prendere la testa del manichino Dovrebbero risbloccarsi i salvataggi Quindi adesso... mi ha fatto paura brutto essere Adesso vediamo, se magari ci vado con freddi magari non vengo preso da nessuno Vediamo, vediamo se effettivamente funziona il trucchetto Allora mi devo ricordare la strada Giustamente, era da qui La borsetta ve la lascio Tra l'altro con gli occhi di Roxy possiamo vedere i vari regalini che ci siamo lasciati alle spalle Però per adesso me ne frega poco Quindi andiamo all'ascensore Usciamo Tra l'altro non si scarica più freddi Che è successo? Carica proprio potenziata Yeah Si aprono le porte, sì Allora, freddino, accompagnami tu perché non so chi possa esserci qui Che mi possa fare jumpscare e mi fa rifare tutto da capo Allora, siamo qui, ovviamente dobbiamo scendere Di qua ci passi freddino Su via, forza Allora, ecco perché c'è Roxy La rottura di scatole Eh, Roxy Raceway Ce l'abbiamo dall'altra parte Vabbè, con freddi Ecco, si scarica freddi invece Allora, corri, spicciati freddi Perché qua Altrimenti ci fanno jumpscare Appena ci sento e Roxy È diventata peggio di prima senza occhi Via, corri freddino, corri Guarda lì come si scarica Ma che ci avete messo? Una 0,5 miliampere Freddino si scarica come no Ma dobbiamo andare lì, tra l'altro Eh, tra l'altro potrò sempre andare dall'altra parte Con sempre dettagli Sempre dettagli Allora, andiamo di qua Vai Il fatto è arrivarci A prendere la testa Dopodiché dovremmo essere mezzi salvi Allora Di qua Giusto Aspetta, adesso io No, di qua, di qua Giusto Esatto Di qua siamo giusti Fammi ricapitolare Adesso non mi freghi più stavolta Soprattutto aspetto il caricamento L'altra volta mi sono incastrato No, non era qua Aspetta, là dall'altra parte Mi perdo sempre con questa postaccia Allora, freddino Io nel dubbio mi sa che ti lascio qua Perché tu mi fai jumpscare Manco Aspetta, lo lascio qua Tanto qui per adesso non c'è nulla E via Me la corro Me la corro Mi insinuo qua E dovremmo esserci Giusto Piano con i lag Piano con i lag Scendo da qua Dovremmo essere lì In quella zona No Apriamo Perfetto E siamo qui Io adesso Lo prendo freddi o no Intanto Me ne scendo da qua Piano Me ne scendo da qua Qua ci sarà Roxy Chiamiamo freddi Freddino Vieni qua Spicciati per Sì Ma qua Roxy Non credo che ci sia comunque Carica bassa Fammi ritrovare la via di fuga qua Non ti fermarò adesso Freddi Resisti No no Lo devo lasciare qua Perché mi fa jumps Che sto brutto essere Freddi Perché ti scarichi Come non so che Ti scarichi troppo presto Allora Come possiamo vedere lì Il punto di salvataggio Non funziona Però Se noi andiamo a prendere la testa Mi avete detto Che dovrebbe Ripigliarsi il tutto Ma io devo trovarla Prima la testa Aspetta Era di qua Tra i magazzini Era Sì In fondo Non facciamoci prendere Dai ramosciarotti vaganti Se funziona Ovviamente Non sovrascriviamo Il salvataggio Altrimenti Mi devo rifare tutto Quindi Clicchiamo Nuovo salvataggio Assolutamente E Di qua Mi insinuo Mi insinuo E mi incoraggio Sempre e comunque E via Allora Era lì Era qui Qua Perfetto Prendo la testa Raccogli Cioè Probabilmente è tornato indietro Cioè Mi è tornato indietro il gioco Ecco perché Ad essere salvabile Aspetta Un attimo È una cosa assurda Questa cosa Però funziona Quanto vedo Aspetta Aspetta Che se salva È un grandissimo Passavanti Verso l'umanità Allora Allora Vediamo Torniamo al punto di salvataggio E via Piano La stamina Sempre che mi abbandona Nei punti meno opportuni Stamina Non mi abbandonare Ti prego I pray you Allora Punto di salvataggio Dov'era Eccola Sembra attivo Sembra attivo Funziona Ragazzi Funziona No Vabbè Abbiamo hackerato il gioco Salvo Ovviamente salvo Che fa Non ti salvi la partita Ok Scegli un altro slot Assolutamente Nuovo slot Non andiamo a sovrascrivere l'altro Perché poi lo cariceremo Per gli altri finali Allora Possiamo andare al monte golf Qua Giusto Quindi me la possa andare Me la posso Me la posso Da dove però Da dove sono arrivato Ma io in questo gioco Mi perdo Allora Il gator club Qua Dove è Aspetta intanto Prendo le scale Eccola Monti gator Dobbiamo andare lì Il problema è che c'è Roxy Il problema è che c'è Roxy Mi sente Roxy Se faccio il giro largo Ma tanto largo Magari non mi sente Via Ecco Forse non mi sente Meglio così Sempre meglio così Vado di là Monti gator golf Oh andiamo a ammazzare Monti Così diventerà Ancora più aggressivo Di adesso Perché ti nascondi da me E perché tu mi ammazzi Brutto essere Allora Vado di là Monti gator Dovrebbe esserci il tizio Che Vuole il pass No Qui dentro Eccoci qua Monti gator golf Eccolo là Perfetto Buongiorno Buon uomo Me l'ha dato freddi Nuovo nuovo Fresco fresco E guarda lì Come è felice Mi apri Grazie Hai ancora Zero pass Festa Meglio così Va bene così Ecco Gator golf di Monti Dove c'è l'uracano Per la buca in mare In uno In mare Siamo chiusi per la notte Tornate presto Ok Quindi dobbiamo trovare La fast cam Che non abbiamo preso La prima volta Perché ho preferito Il blaster Allora Si può Salve Che carina Però sta giungla Mi sa che dobbiamo Scendere Nasconditi Ci sarà Monti Qui da queste parti Ovviamente Qua abbiamo qualcosina Da raccattare Regalini Vari ed eventuali Borsette Vari ed eventuali Qualche pass No C'è un figo secco Niente Me ne vado allora Dobbiamo scendere Qua possiamo attivare Che è sto rumore Che cos'è Blah Blah No vabbè Andiamo Speriamo che non ci sia Monti Da queste parti Lo spero proprio vivamente Anche perché Venire qua Brutto è Venire qua Senza possibilità Di salvare Cioè se ti prende Devi fare tutto Mamma mia Che brutta cosa Però Se qui Ramoscianotto Mi fa avanzare Tra l'altro Non ci vado più Non ci vado più Non ci vado più Non ci vado più E dai Ma Monti No Monti non funziona Nel blaster Non funziona Manco la fa scamba Con Monti Quindi come faccio Ad altra passare qua Sì ma c'è Franto Ecco In questo caso Io avrei dovuto Rifare tutto Cioè Ripartire dalla scelta È una cosa assurda Ah qua posso scendere Senza punti di salvataggio È un problema Sì ma Troppi Ramoscianotti vaganti Però Troppi Troppi Però se scendiamo dietro Magari Non mi ve Io manco so dove devo andare Stazione di ricarica Adesso ricarichiamo Freddy E me la faccio con Freddy Che c'è qua Aiuto Piano piano Eh ricarico Freddy Assolutamente Che qua è ingiocabile Freddino Caricati Ok Adesso possiamo andare ovunque Ovunque Però Dobbiamo capire Monti che Gioca Ah Ah Il Princess Quest 2 Cos'è Aspetta che gioco Fammi vedere Fammi vedere Fammi vedere Gioca Gioca Giù è Oh Premi Gioca No Sto giocando Proprio al Monty Goff No Vabbè Se Vabbè Che cos'è Non lo farò mai Che schifo di tiro Che schifo di tiro che ho fatto Allora Direzione Ta Così Poi Come si tiri Piena potenza E vi Eh L'altra parte del mondo è andata Aspetta Ok Potenza Eh Facciamo un po' Così è troppo Facciamo così E via Ho preso la bandierina No La bandierina no No Aspetta Anche Posso regolare Piano Piano Eh Eh Un po' di potenza E facciamo giallo E via Troppa potenza È troppo sensibile Sta a fare qua Allora Eh Buca Potenza Pochissima Oh Alleluia Bughi triplo addirittura Fatto schifo Sostanzialmente Allora Da qui Dov'è che si deve andare Io non l'ho capito Che direzione Dovevo prendere Io da qua Proviamo lì Ah lì possiamo caricare Freddy E qui è dove ero prima Non è bagno Ok Va bene Da qua Sta folli Tutto sta Passi di livello 10 E che cos'è Comunque Freddy mi ha detto Che avrei dovuto prendere Qua la cucina addirittura Cioè Dovevo andare Presente all'ufficio Gli uffici Non credo Siano Dove ci sono le buche Aspetta Forse l'ho trovato invece Vedo una stella Aspetta qua Fammi vedere Prendo la borsetta Piano Vedo una stella Generalmente Le porte con le stelle Portano agli uffici Ecco Ecco Perfetto Vediamo Punto di salvataggio Cioè pensate a farlo Senza salvare Sta cosa È assurdo È impossibile Allora qua Si aprono Intanto mi salva la partita Non si sa mai Quello che possa accadere Da qui a poco Ok Quindi dove si va Seguiamo le stelle Seguiamo le stelle Perché ci condurranno All'ufficio Della sicurezza Probabilmente Qua Trovato Ecco Eh lo sapevo Eh lo sapevo Aspetta che prendo il badge pure Aspetta Come faccio adesso A sopravvivere Badge Il livello 8 Ok Sì questo lo so Questo lo so Come faccio a sopravvivere qua Ok Dove trovare la Fascam Tra l'altro No Ah c'è un altro regalino Noi che devo prendere pure questo Dai guarda là Quando hai il Fascam equipaggiato Premi per sottire Qualsiasi bot Nell'area circostante Va ricaricato Ha una possesione per torce Tra non utilizzerla pure Buono L'inutilità Meno male che avevo scelto il blaster Cambiare oggetti Con F Middle mouse Per cambiare oggetto Ok Eh quello non fu se perché porta gli occhiali Ok Niente Qui non c'è altro da esplorare Quindi probabilmente dovranno tornare indietro Dove ci sono tutte le attrazioni Andiamo che dobbiamo attraversare qua a mezzo mondo Per arrivare nuovamente lì C'è da dire che comunque anche se non si potrebbe salvare Comunque con Freddy puoi andare ovunque Senza Senza prenderti jumpscare Il problema è caricarlo Il problema è quello Allora dobbiamo capire Dobbiamo uscire no? Direttamente da Qui Allora il prize Dovevo cercare il prize Qualcosa del genere Finiva per prize Eh forse è quello Prize L'ho trovato È quello Non lo stesso è quello Però saliamo Freddino ti prego Rimani con me Rimani con me Da qua possiamo anche No manco per niente Sono i ramoscellotti E devo salire ancora però Da lì possiamo salire Allora veloce Freddino Che poi è normale che ci vai a morire Non ci sono manco le cariche Ancora mi segue lei Che rottura di scatole Dove lo carico Freddy? Saliamo 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 Lo lascia in mezzo alle scale Appena si scarica Allora ecco Prize è qui Dove devo andare qua? Non mi pare comunque Aspetta un attimo Infatti è chiuso Non è qua Non è qua Allora Cerchiamo un'altra zona Con un nome simile Qua Non ne vedo Falscade Bonnie Brawl Non ne vedo Ah quello Mezzerchise Ecco Non Prize Mezzerchise Dall'altra parte Trovato Trovato Attenzione Concentriamoci Nel memorizzare I nomi dei postacci Altrimenti Ci andiamo a morire La stamina In questo gioco La pagate Più del gioco stesso Allora Si va di qua Teramo scialotti vaganti Non facciamoci fregare Teramo scialotti vaganti Osserviamoli Sono velocissimi Io passo da qua dietro Ci passa anche da qua dietro Non passava da qua dietro Mi nascondo Vai Ma dai Ma come siete brutte persone E via E via che me ne vado Me ne vado Verso il merchandising Allora Buon uomo Le do il passo E mi faccia subito entrare Perché c'è il suo collega Che mi insegue Si spicci però Allora Ma 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 Grazie Ok ma Nel dubbio si può salvare Nel dubbio si può salvare In questo brutto postaccio Allora di lì c'è una porticina Mentre di qua Niente E' un'altra porticina là Quindi presumo che In ogni caso Deba prendere una porticina Scelgo questa Va Visto che sono qua Allora Sempre la moscellotti Niente Vado di qua Ah si Aspetta che Che lo trovo Quanto meno lo cerco Perché Perché in tutti i posti Ci sono i labirinti Ecco Perché qui c'è il condotto Che ci porta lì Ma Io come ci arrivo qua E mi sa invece che devo tornare indietro Perché è tutto chiuso Devo trovare il modo di modificare il labirinto Altrimenti ci aggrappiamo qua Ecco Ma non è vero Sono per i fattacci miei Fatti gli affaracci tuoi tu Adesso quello arriva qua Non ci posso credere A me sembra che Roxy ci veda meglio di prima Cioè io ero immobile Non ho fatto niente Doveva rompermi le scatole Vabbè ragazzi Direi che per oggi Va bene così Lo vedremo al prossimo video Probabilmente Anche perché sono dall'altra parte All'universo Che bello Meno male che si può salvare Mi raccomando quindi Mi supportate se passate al canale Lasciate mi piace Iscrivetevi al canale Se siete iscritti Attivate la campanella E poi c'è tutto Al prossimo video All'universo